Verdi Verdi era assolutamente affascinato da Shakespeare e verdi era base de una exposizione di opere e del teatro Verdi era inutente da Shakespeare verdi knew Shakespeare di tradizioni del tempo. Quindi era la passione del drama. Era il romantico aspecto. Era il vasto comprensione di persone in diverse parti del mondo. Era una sorta di teatro che Shakespeare ha creato. Ogni volta che lo vedo, hai alcun significato. Hai alcun significato. Non credo che c'è un compositore che parla più direttamente al cuore delle persone che Berdy fa nell'opera. Perché alla fine si canta in teatro gli sentimenti umani. Nell'hotello abbia trovato tutta la forza drammaturgica con la quale poteva esprimere la sua ammirazione per la tragedia di Shakespeare. Per essere capito capito di capire individui e situazioni sociali non solo di loro in loro loro in loro loro ma di poter personalizzare cose da 100 anni o cose da tutto il mondo o cose da tutto il mondo e poi tornare le cose personali sono la connessione tra i due grandi creatori. ALE! 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 ALE!